E allora benvenuti riperiani a un nuovo video di questo canale, eh? Allora il problema è sempre quello, è portarsi in giro il proprio ascolto dello studio in modo che quando ascoltiamo musica diciamo in giro, ok, quindi in mobilità o non abbiamo la possibilità di portarci dietro al nostro studio dobbiamo avere l'ascolto più simile possibile a quello che poi sarà dove lavoriamo, eh? Capite che tirarsi in giro, tirarsi in giro un affare del genere non è per niente semplice ho la sua custodia però vendono anche delle custodie un pochino più belle ma è un po' una menata e quindi io stavo cercando il suono delle cuffie planari, ok? Stavo cercando questo suono però più in mobilità e sono tornato a un brand che abbiamo visto un milione di anni fa qua sul canale che si chiama KZ che fa cuffie in-ear e questa volta sono uscite le in-ear planari vediamo come sono e quindi andiamoci a studiare queste KZ HBB PR2 che sono appunto delle cuffie planari ma miniaturizzate in una in-ear andiamoci ad aprire questa plastichina della KZ appunto avevamo già visto diversi altri modelli ma queste qui sono appunto le planari ma al solito il packaging è sempre molto interessante e cosa abbiamo? Nella scatola nella scatola abbiamo il loro cavo e appunto le due cuffie eccole qua ve le faccio vedere un pochino più da vicino appena riesco a mostrarle quindi sono un po' ingombranti, eh? diciamo che non sono proprio super super slim vediamo bellissimo il memory foam questi sono tipo i tappi delle orecchie quindi avremo un seal praticamente perfetto vedete come si schiacciano e come poi dopo lentamente riprendono un po' la forma ve le consiglio? sì, allora tantissimo ma solo se avete la possibilità di equalizzarle perché a mio avvio se le attaccate a un ricevitore sul palco ad esempio per usarle come in-ear da palcoscenico sono troppo brillanti e vi spaccate le orecchie se avete la possibilità di equalizzare questa vostra uscita con un tilt e q e semplicemente dargli una scurita ok? quindi un boost alle basse una scurita alle altissime soprattutto a zona 10kHz quella zona lì 10-15 lì sono molto molto violente ha un po' l'effetto dal planare allora consigliatissime se potete tiltarle ed equalizzarle equalizzate sono stupende così come escono e usate a mio viso sono pericolose ok? quindi questa è in short poi se vuoi guardate tutto il resto del video quindi 1-2 qui abbiamo gli altri tappini ci sono come sempre varie misure sono tutti appunto in memory foam no questi sono in gomma vediamo qui secondo me è gomma se non vi piace il memory foam gomma ma io vi consiglio molto molto caldamente il memory foam tipo tappo degli orecchi quindi questi magari non li proviamo poi sempre compreso nella sua confezione abbiamo il suo cavo io ho preso la versione con il microfono perché ho intenzione di usarlo comunque con il telefonino e quindi avremo un attacco non TRS ma TRRS ok? con vediamo il suo microfonino intermedio e i suoi connettori per le cuffie quindi abbiamo appunto il connettore che dovremmo andare a inserire qui dentro left right come si capisce? capisce? l'aggancio è molto molto semplice è a pressione quindi niente di strano semplicemente spingere voilà voilà su cosa vado a testarlo? andiamo a provarlo su un telefonino normalissimo usiamo magari una piccola DAC USB-C in modo da dargli subito una chance migliore possibile ok quindi abbiamo Deezer in modalità lossless confermo di essere lossless come faccio impostazioni audio connessione dati qualità download standard riproduzione normalizza audio sì alta fedeltà alta fedeltà sempre DVD Duke Ellington ok grande dettaglio ma ovviamente poche basse questa cosa un po' me l'aspettavo onestamente ma fortunatamente ho l'equalizzatore interno di Deezer quindi adesso gli do una sistemata hanno bisogno di volume hanno bisogno di un pre che possa dargli un po' di cazzotto io alla fine mi stabilizzerò qua questa qua è l'EQ che ho trovato al momento è ancora un po' brillante però devo provare a curirlo ancora un filo buono così vediamo un Britmi di Sia per vedere il dettaglio della voce belle però belle non sono per niente deluso yes yes non male questa qua è l'equalizzazione che consiglia Auto EQ App ok quindi vedete che c'è molta brillantezza sui 10k che è quella che sto cercando di tenere sotto e manca un pochino sotto nei 100 Hz ma sto dando con l'equalizzatore dell'app interna ok esiste diesel vediamo che ad esempio Spotify mi consiglia questa qua sono le impostazioni consigliate per l'equalizzatore di Spotify meno 9 su 15k io quanto sono? audio equalizzatore io sono eh sì circa sì la mia è 14 non a 15 sono a meno meno 8 poi dice meno 1 ok sono d'accordo 1000 Hz circa 0 anzi qualcosina di più e poi meno meno basse per assurdo consiglia io invece qui sto boostando io sto dando un 3 dB più il bass boost dammi una roba più di classica abbiamo va bene preludio 8 terzi della traviata perché no? ho il volume praticamente al massimo beh bello dettaglio è molto molto bello beh beh non un brutto compromesso sapete cosa? le trovo molto molto profonde ma nel senso fisico cioè sento proprio che mi sta un po' stuprando le orecchie brutta immagine in orizzontale cioè sento che il gommino è molto molto in profondità il suono è comunque continuo a prendermi la faccia di questo qua dietro prendi me sono io lo so che c'è il sole però ora il sì il tipo di suono è quello lì un po' da da cuffia planare ha quel tipo lì di di qualità che cercavo c'è sicuramente bisogno di un pochino più di ascolto faccio così oggi me le porto in giro così vi do un feedback anche di come funzionano in giro vi confermo questa cosa con l'uscita integrata del dell'iPhone perdono un po' di magia ovviamente queste danno il loro meglio se appunto avete una DAC collegata al vostro al vostro telefono quindi adesso probabilmente mi riattacco al mio Xiaomi dove ho quella DAC dell'iDiz se voglio un'esperienza un pochino più hi-fi di streaming ok però questo è un po' quello che potete aspettarvi sì comunque con queste non ci puoi guidare le tolgo al volo perché non senti veramente nulla è pericolosissimo allora sì vi confermo che riesco ad ascoltare più a lungo hanno un po' quell'effetto della planare che mi piace che posso ascoltarla a lungo senza senza rompermi le balle mi sono appena fatta una ventina di minuti a piedi passeggiatina con musica molto bene molto bene bisogna stare attenti appunto all'equalizzazione per fare in modo che non siano troppo abrasive c'è una cosa un po' scomoda e io sto ancora aspettando l'adattatore che non mi è ancora arrivato essendo TRRS non puoi attaccare l'uscita cuffia di una scheda audio teoricamente adesso provo dovresti avere un adattatore che è TRRS femmina che diventano due jack che diventano appunto un jack cuffia e un jack microfono in modo da staccare quello che è il microfono da questo connettore io ora provo comunque però vediamo se va però vi dirò anche senza equalizzatore fruibilissime un po' brillanti ma dopo un po' il tuo orecchio si abitua e un po' tanto brillanti sto correggendo appunto le KZ PR2 con l'equalizzazione di auto e q-up ok mi sono scaricato quindi la convolution e q ho messo dentro un reavverb gli danno la scurita che gli serve e sto provando la modalità stereo che ho visto che mi migliora un attimo il bilanciamento tra le due la preferisco onestamente e sto sentendo un po' di drum and bass sapete che è un po' acidona forse un filo troppo sono safe beh sono molto molto belle hanno moltissimo senso cioè la cosa che sto sentendo ora nonostante magari abbiano bisogno di un filo di rodaggio è che non sto sentendo quel classico suono da cuffia in ear ma sto sentendo la musica è un po' quello che mi capita con le 1060 che non ho quel suono di cuffia ma sono madonna sono bellissime porca troia dammi un major laser un lean on che di solito è la mia reference con un preamplificatore vero non faccio fatica a spingerle col telefonino sono tipo al massimo senza correzione molto brillante una volta che le sistemi ah minchia yes tuttana merda così che queste sono le robe giuste che dovete fare cazzo molto bene molto bene yes ok comprali tipo dammi un femme d'argent la femme d'argent degli ear non ho trovato i biglietti alla fine per quando vengono qua in italia a fare la live ticket master del cazzo voi ovviamente non lo state sentendo ma fa chi è ok si yes no ok ritratto attaccati alla mia DAC funzionano anche se non hanno l'adattatore che splitta mi sento comunque di consigliarlo ve ne lascio quello che ho comprato io qua sotto nei commenti vi risolve un sacco di mal di testa però in questo caso funziona mi dava un filo noia l'equalizzatore interno di Deezer sto usando quello di sistema sto usando quello di sistema della Xiaomi vedete che c'è sempre un po' questa curva in scurimento però così è molto molto piacevole ok considerazioni finali le ho anche attaccate all'iPhone con un semplice dongle lightning questi sono non penso che siano attivi un po' come l'iDiz se vi interessano questo tipo di dongle USB io ve li consiglio tantissimo ve ne lascio un paio in descrizione non costano tantissimi quelli della Shark Noon ad esempio sono buoni quando sono in stock non è prevista una poccetta per il trasporto purtroppo riciclerò questo porta porta ottiche ecco si sporca un po' il gommino se avete un po' di cerumino ok quel gommino un po' sullo schifoso andante con Brio ma una volta ce l'avete dentro non ve lo vedono però se fate quella roba di tirarla giù in strada e vi penzola sulla maglietta avrete tutto il vostro cerume che vi penzola sulla maglietta io me le trasporterò così e alla fine il modo che trovo più pratico alla fine sono quelle poccette qua niente me la porto un po' in giro quindi riduzione del rumore anche se non è attiva comunque ce n'è parecchia perché come sentite dalla mia voce tendo poi a urlare perché non mi sento e mi sento solo per vibrazione ossea quindi non sono semi aperte o aperte nonostante siano delle planari ma il suono è quello effettivamente cerca un po' di avvicinarsi al mondo di quello che può essere una planare come una 1060 o come una 400se della Ifiman insomma un po' quel mondo lì se hai magari scoperto in passato il piacere del planare questo potrebbe essere un modo di portartelo in giro senza andare in giro a fare il robot ok con una roba così grande da sclerati quindi sì le consiglio assolutamente io oggi poi mi porto un fantastico adattatore che spero funzioni prima dell'arrivo appunto dello splitter che vi dicevo TRRS e vedo un po' il lavoro in radio come se riesco a lavorarci se riesco a mixarci dentro ma non penso che avrò particolari problemi l'immagine stereo me l'aspettavo più larga è abbastanza contenuta che potrebbe essere molto buono per il mixer mastering ma purtroppo per quel tipo di considerazione dovremmo aspettare cioè c'è da aspettare un po' di tempo c'è da provarla per più tempo ok è l'unico modo purtroppo di dirvi effettivamente se ci si mixa bene o no l'unica cosa che posso fare è montarla al lavoro fare un po' di programmi di jingle di registrati di basi e vedere che cazzo succede poi in onda se non fanno robe strane purtroppo non è una cosa che posso fare in un video di unboxing potrete capirlo anche voi detto questo niente ci vediamo al prossimo video ci vediamo al prossimo video eh le stoffa a spendere i soldi queste qui ci sono anche su aliexpress vi lascio entrambi i link se volete spendere un po' meno ci sono su aliexpress se le volete subito ci sono su amazon a un grosso rincaro ok è il motivo per cui non ho parlato di prezzo in questo video perché andatevelo a vedere variano molto quindi qualsiasi prezzo avrei detto in questo video non sarebbe stato realistico rispetto a quello che effettivamente potete trovare sul mercato è stato realistico